bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo ovviamente un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e il presente e si ragazzi perché sulla bocca di tutti ovviamente l'uscita delle nuove schede grafiche nvidia la 3080 andata a ruba in una maniera incredibile con conseguente aggiornamenti dei driver nvidia l'artx il ray tracing è disponibile ne parleremo un attimino vi faccio vedere delle cose ma parliamo anche del nuovo pack ps plus e di tante novità in game prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non può che essere tutte le informazioni per quello che riguarda il ray tracing innanzitutto che cos'è ok è un nuovo driver una nuova funzionalità che troverete nelle impostazioni di gioco che vi permetterà di avere molta meno latenza con la vostra scheda grafica questo vuol dire movimenti più reattivi ad esempio del mouse maggior incremento di fps quindi anche nei fight o soprattutto nell'end game non dovreste più avere questi drastici cali che ovviamente fanno andare a scattini il gioco e non consentono una fluidità leggiamo delle notizie importanti quello che serve innanzitutto è il driver nvidia 456.38 l'hanno rilasciato il 17 settembre ieri quindi andate nel vostro programma geforce experience su windows ovviamente e aggiornate molto semplice vi dirà direttamente lui c'è un aggiornamento da fare sono circa 560 mega e chiudete tutto mi raccomando prima di aggiornare chiudete fortnite chiudete se state streamando obs tutti i programmi lasciate aggiornare da solo perché vi si resettano gli schermi dovete avere ovviamente windows 10 dalla versione del 2004 e dovete avere almeno una 2060 o più indicativamente appunto ragazzi una volta che avrete aggiornato ovviamente richiede la direx 12 ma è gratuitamente ottenibile dovreste già averla scaricata tra l'altro perché è stata testata anche su fortnite e avete la possibilità ovviamente di giocare con la direx 11 o con la 12 una cpu che abbia almeno 4 core però indicativamente se avete una 2060 non dovreste avere il problema della della cpu qua siamo nella sezione come vedete delle impostazioni quindi la prima voce che appare aprendo il menu e se scendiamo sotto sotto in basso è nvidia reflex low latency sotto ancora c'è scritto ray tracing per avere abilitate tutte queste voci guardate bene dovete avere attiva la direx 12 altrimenti saranno offuscate non le potrete utilizzare provatela vedete come vi trovate guardate se l'incremento di fps lo sentite perché è tanta tanta roba vi faccio vedere una carrellata di immagini con appunto il ray tracing guardate che bello che è foschi ma guardate anche l'effetto che si vede a pantano per quanto riguarda il succo slurp veramente agli occhi meraviglioso addirittura il coral castle prende una forma molto realistica il suo interno diventa quasi magico e come vedete ragazzi tutte le colorazioni che vengono dai coralli sono veramente meravigliose non poteva ovviamente mancare anche l'azienda di stark e le stark industries che come vedete si riempiono di colori di ombreggiature di sfumature che guardate anche in questa immagine danno veramente un tocco al game incredibile dei colori pazzeschi della qualità e del realismo veramente rari da trovare in alcuni videogiochi soprattutto gratis come fortnite quindi ragazzi questo è tutto quello che dovevate sapere ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché meno male che tutte le mattine in live abbiamo giocato in questi giorni abbastanza assiduamente la modalità marvel quella che abbiamo giocato la knockout in terzetti o in coppia perché da ieri ragazzi l'avrete sicuramente già visto arriva una nuova modalità che è veramente molto bella si chiama stallo marvel due grandi squadre raccolgono poteri che cadono dal cielo e si affrontano fino all'ultimo giocatore rimasto ti rigenererai all'eliminazione fino ad esaurire le vite extra avrai due vite perciò vedi di sfruttarle perde la prima squadra che resta senza una nuova modalità ragazzi io vi invito sempre soprattutto se volete livellare il pass battaglia a giocare la modalità marvel dove ci sono solo le abilità dei supereroi per le schede punti ovviamente ma vi ricordo anche che i danni ai giocatori si incrementano tantissimo con i poteri quindi avanzerete anche con quella scheda punti e soprattutto ogni kill che fate con il raggio di ironman con i guanti oppure con i guanti di doom viene contata come una kill con armi esplosive il che è fantastico per completare la scheda dove dovremmo in realtà utilizzare l'rpg o armi appunto che esplodono quindi tanta roba anche per la nuova modalità stallo ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è disponibile forse per noi in italia arriverà tra qualche ora indicativamente verso credo le 15 le 16 di oggi ma in america è già possibile utilizzarlo il nuovo pack dps plus ovviamente ragazzi è completamente gratuito vi basta semplicemente andare nello store di playstation e scaricarlo in questo modo otterrete ben quattro nuovi oggetti da inserire nel vostro inventario abbiamo l'adesivo del path patroller abbiamo uno standard dedicato addirittura un piccone e una copertura questo ragazzi vuol dire appunto che tutti quelli che hanno scioppazzato la skin del path patroller possono finalmente avere un set completo che appunto stia davvero bene con con questo ragazzone tanta tanta roba anche per il pack dps ovviamente non perdete l'occasione di averlo nel vostro armadietto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle grandi notizie per quanto riguarda la patch 14.20 settimana scorsa abbiamo scaricato la 14.10 addirittura 11,20 giga su pc credo che c'entrasse molto il discorso del ray tracing anche perché in game alla fine abbiamo visto poca roba ma abbiamo appunto la certezza che il la nuova pace nuovo aggiornamento è nello stage server questa è un'immagine direttamente presa dai file di gioco che ci fa vedere come sia stato testato veramente tantissime volte il che ci lascia ben sperare perché potrebbe arrivare a questo punto addirittura settimana prossima sarebbe corretto come spazio di tempo 15 giorni indicativamente dalla 14.10 alla 14.20 ci aspettiamo ovviamente qualche info in più sulla storyline che vede coinvolti appunto i supereroi marvel come si dice che devono difendere ovviamente la mappa dall'arrivo di galactus che è stato un pochettino lasciato lì e prima di salutarvi ragazzi un'ultima informazione arriverà il 23 settembre la season 1 di rocket league è davvero interessante perché come sapete il 24 settembre rocket league sarà disponibile a titolo gratuito nello store di epic games quindi potrete appunto scaricarlo senza spendere un centesimo e giocarlo illimitatamente ma ci sono delle delle cose degli easter egg davvero molto carini nel trailer che purtroppo non ho tempo adesso di farvi vedere perché siamo in dirittura d'arrivo ma guardate quel cerchio rosso sapete che cos'è quell'ombra ragazzi è l'autobus della battaglia nel trailer si sente proprio in quel momento anche il suono del clacson dell'autobus ma ci sono anche degli altri elementi che vanno un po' a riprendere quello che abbiamo visto su fortnite ad esempio i leoni di pietra quelli che sono ancora a campo merluzzo oppure mi sembra di ricordare escano dal vulcano le macchine o comunque qualcosa del genere quindi potrebbe semplicemente essere l'indicazione della collaborazione di epic games che ha assorbito rocket league o magari nel gioco proprio ci saranno delle cose inerenti a fortnite insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho detto vi ho detto e vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao ciao